Bene, possiamo iniziare? Buongiorno a tutti, io sono Alessandra Raffaele dell'associazione Ligure Astrofini Coralis Onlus e sono onorata di dare un benvenuto al Festival della Scienza di Genova. Molti di voi ci conoscono già, noi siamo un'associazione per la divulgazione scientifica gratuita per tutti, per il pubblico, infatti siamo una on, sono un'associazione non ha scopo di lucro e siamo molto orgogliosi di questo, cerchiamo di diffondere l'astronomia e le scienze correlate all'astronomia il più possibile. Teniamo sempre conferenze di astronomia qui all'Uso di Sfera Naturale che approfitto per ringraziare dell'ospitalità da più di vent'anni, quindi approfitto dell'occasione, molti di voi hanno dei volantini già in mano per dirvi che la prossima conferenza sarà il 12 novembre, sabato 12 novembre qui al Museo di Sfera Naturale e inviteremo un personaggio particolare sui generis, un divulgatore scientifico e attore teatrale, un ragazzo molto giovane, idolo dei giovani, Adrian Fartale, da di 29 anni che è laureato in filosofia e storia della scienza e che vi trascinerà con il suo modo particolare di spiegare, fare un giro, il giro del sistema solare con tante immagini. Quindi non perdetevi soprattutto adattare ai ragazzi questa particolarissima conferenza, il giorno dopo il 13 di novembre, domenica, con lui faremo un raduno di astronomia tutto il giorno dalle 11 alle 18 con l'osservazione del sole con i nostri telescopi e book crossing e scientifico scambio di libri di astronomia e di fantascienza. Quindi un raduno particolare e ci sarà Adriana tutto il giorno, tutto il giorno, metterà conferenze di astronomia e parlerà scambio domande, curiosità con i partecipanti. Allora, probabilmente, adesso stiamo in fase, lo faremo probabilmente qui in un parco a Villa Croce, ma stiamo tenendo la... perché era previsto per nervi, forse ci sarà un cambiamento di programma, ma ve lo comunicheremo immediatamente nei prossimi giorni, forse già da domani, quindi in modo da avvisarvi per tempo. Bene, organizzeremo anche un corso base di astronomia in primavera e sono già aperte le iscrizioni, abbiamo i nostri volantini perché noi ogni anno organizziamo questo corso di astronomia per... aperto a tutti, per adulti, dove sono previsti anche delle serate osservative con i telescopi, oltre che giornate teoriche e monografiche sulle galassie, il sistema solare, l'uso degli strumenti, dei telescopi, eccetera. Ho finito questo preambolo perché adesso vi devo presentare il relatore specialissimo di questa conferenza. Abbiamo invitato qui per voi oggi il dottor Albino Carmoniani, che è un ricercatore dell'osservatorio astronomico della regione autonoma Valle d'Aosta. Un osservatorio per me, poi vi dirò perché, è un osservatorio che ha un centro di eccellenza, è un centro di ricerca che coniuga la ricerca scientifica alla divulgazione e alla didattica. Il dottor Carmoniani è ricercatore sul progetto Pianeti Extrasolari con il metodo dei transiti ed è responsabile del progetto Asteroidi. Lui, in sostanza, si occupa dell'astrometria e della fotometria degli asteroidi near-head, cioè quelli più vicini alla Terra. Correggimi se sbaglio. Il ricercatore è uno dei massimi esperti di asteroidi. Ne ha anche scoperto uno perché nel 2007 ha scoperto un asteroide che poi è stato chiamato Valle d'Aosta, in francese scusate, ci sono anche dei Valle d'Aosta che chiedo scusa per l'accento. E questo asteroide è stato chiamato così in onore alla regione che ospitava l'osservatorio, il centro di ricerca scientifico. Quindi, chi meglio di lui può parlarvi di asteroidi? Tra l'altro, si occupa anche di divulgazione e di didattica perché è responsabile di una scuola di astronomia, è una scuola estiva di astronomia che si tiene tutti gli anni all'osservatorio astronomico della Valle d'Aosta. È dal 2010 che io, mio marito e alcuni soci di Polaris partecipiamo a questa scuola di astronomia. È bellissima, interessantissima, fatta bene. Lui è un insegnante anche della scuola, è responsabile, è severissimo, bravissimo, precisissimo e il bene di questa scuola è che abbiamo a nostra disposizione degli scienziati, dei ricercatori da torturare i poverini con le nostre domande che loro vedranno come una cosa, diranno ma guarda se devo rispondere a queste domande, sono pazientissimi ed è proprio un momento stupendo dove la scienza passa da chi la fa dagli scienziati direttamente al pubblico senza l'intermediazione dei giornalisti scientifici o l'intermediazione dei mass media ma direttamente dal produttore al consumatore, diciamo. Quindi vi consiglio per una vacanza estiva, anche io ho detto che questo osservatorio astronomico della Valle d'Aosta si trova nella valle di San Barpelemy, nel comune di Bus, che è un posto bellissimo a 1670 metri di quota all'osservatorio e un posto tra le montagne con un cielo meraviglioso, quindi la qualità del cielo è ottima e non c'è tantissimo inquinamento luminoso e questo è molto importante, infatti in questo osservatorio che tra l'altro è gestito da una fondazione Fiderot-Clemente, ecco è un po' difficile il nome per me che non non ho l'orecchio per le lingue, una fondazione a Olus che gestisce l'osservatorio e organizzano anche tutti gli anni un famosissimo Star Party, un raduno di astrofili annuali, lo Star Party è un raduno di astrofili che arrivano da tutte le parti d'Italia con i loro strumenti, telescopi, strumenti per l'osservazione del cielo per passare una o due notti a osservare il cielo e di solito questi raduni ovviamente si fanno dove la qualità del cielo è alta e San Bartolome ospita questo Star Party più antico d'Italia e anche adesso ha un scontro ottimo. quindi appunto questo centro, questo osservatorio ha appunto molteplici attività, un planetario bellissimo che lavora molto per tutti e per i ragazzi, per le scuole, quindi se a quanto tempo potete anche vedere il cielo virtuale sotto la cupola di questo planetario dove viene proiettata la volta celeste, le costellazioni e gli esperti vi guidano alla scoperta appunto del cielo, dei miti, delle leggende e anche delle leggi scientifiche che appunto muovono il nostro cosmo. Parliamo di asteroidi, non vi urgo altro tempo perché l'argomento è assolutamente affascinante, vi dico solo una cosa, possiamo tirare su un po' l'immagine? Una piccola curiosità, l'immagine che vedete in questo nostro volantino divulgativo sulla conferenza è un'immagine di astro arte di una arpitrice italiana Cristina Cereda che in questa immagine ha vinto un concorso della NASA e in questa immagine in forma digitale sta viaggiando in questo momento a bordo di una sonda, una navicella della NASA diretta, la sonda si chiama Osiris Rex e sta viaggiando verso un asteroide, l'asteroide Bennu, un piccolo asteroide di 500 metri di diametro. La NASA appunto ha indetto questo concorso perché voleva che qualche artista riuscisse a rappresentare, a cogliere bene lo spirito delle missioni verso gli asteroidi. Ora qui vedete quasi una maternità, sembra una Madonna che è un bambino nell'asteroide perché per un'immagine suggestiva evocativa può spiegare un concetto scientifico, ovvero la vita che viene dallo spazio e portata dagli asteroidi. Queste sono le ultime idee scientifiche però di questo vi parlerà il Dottor Carbognani che ringrazio ancora per aver accettato l'invito. Grazie a tutti, vi lascio un'ottima mano. Io ringrazio Alessandra per questa fantastica presentazione perché allora sono onorato e che ho composto di essere qui tra voi. Allora adesso cominciamo un pochino ad entrare dall'argomento. quindi togliamo questa bellissima immagine del volantino e... adesso l'attiviamo... chi sa come si usa LibreOffice... visualizza sarà, le domande... quindi sarà la prima diapositiva. Grazie per l'assistenza. Allora questa conferenza l'ho sviluppata sotto PowerPoint di Microsoft Office e qui invece siamo su LibreOffice. la compatibilità è al 95% grosso modo. Quindi se ogni tanto... può capitare... vedete qualche scritta messa in modo strano e così... non è perché io ho fatto la conferenza in cinque minuti e non ho corretto gli errori, ma perché LibreOffice che visualizza in modo leggermente diverso una presentazione che è nata su Office nativamente. Ecco, allora, prima di cominciare... vedete parleremo... il titolo è Gli asteroidi e il mistero della vita sulla Terra. Ecco, mi sono portato con me, qui a farmi compagnia, ho due piccoli amici che ho qui davanti, non so se riuscite a vederli. Il primo oggetto... Grazie, Matteo. Lo stavo per dire. Il primo oggetto è una piccola meteorite, una contrita ordinaria ritrovata nell'eserto del Sala e quindi è un... come vedremo durante la conferenza, è il frammento di un asteroide della fascia principale sostanzialmente e quindi è un campione molto primitivo di qualche miliardo di anni di quello che dovevano essere i corpi presenti nel sistema solare durante la formazione dei pianeti. Quest'altro oggetto, invece, è una cosa completamente diversa, anche se sembra una roccia. In realtà questo è un fossile, è un fossile di trilochite che ha un'età di 500 milioni di anni. quindi, diciamo, è del periodo capivariano grossomodo. I trilobiti sono dei, diciamo, dei grandi primitivi e li vedevano sui fondali degli oceani di 500 milioni di anni fa. Ecco, durante questa conferenza cercheremo di capire che cosa lega questi due oggetti. Cioè, sono due oggetti apparentemente, adesso li chiamo oggetti, che sono una trilobite che vive 500 milioni di anni fa, li chiamo oggetti. Però, insomma, che cosa lega queste... la meteorite e il trilobite? Quindi, alla fine della conferenza, spero, insomma, di averli fatto capire che, effettivamente, c'è un legame diretto comunque abbastanza stretto tra due cose che sembrano slegate e tenete conto che fra noi e in questa trilobite ci sono solo 500 milioni di anni di evoluzione, quindi, insomma, siamo parenti anche abbastanza prossimi. Quindi, se volete, questa conferenza vi farà capire qual è la relazione fra gli asteroidi e noi, noi stessi, proprio intesi come esseri viventi. Adesso possiamo riappassare le luci, poi a fine conferenza, se volete vedere da vicino i miei due amici, potete farlo tranquillamente. Bene, allora, cominciamo con il parlare di asteroidi. Cominciamo con il parlare di asteroidi. Allora, di asteroidi, diciamo, se non siete astrofili mediamente interessati, è difficile che, diciamo, abbiate così l'orecchio sintonizzato e abbiate una conoscenza approfondita. Lo so, magari vi è capitato di andare a vedere recentemente al cinema il piccolo principe, film proprio, e quindi vi avete sentito parlare degli asteroidi. Ovviamente si tratta di un cartone animato, quindi, diciamo, con l'accuratezza scientifica si va un pochino a perdere. Però, comunque, insomma, vedete anche questo disegno vi fa capire che gli asteroidi sono degli oggetti abbastanza piccoli, possono anche essere così piccoli, vedete questo è il piccolo principe, che è un bambino sostanzialmente, quindi, insomma, l'asteroide è rappresentato come un piccolo oggetto in orbita attorno al sole, perso nello spazio. Oppure, se siete, come dire, un pochino più vissuti, avete qualche anno sulle spalle, magari vi sarà capitato di giocare ad Asterox, in uno dei famosi, dei primi videogiochi, un arcade game del 1979, quindi, insomma, dal punto di vista informatico un pochino pre-storia. però, vedete, già in questo gioco, che sostanzialmente si trattava con una piccola astronave in grado di sparare nei missili, di distruggere gli asteroidi prima che questi investissero all'astronave stessa. E quindi fa capire un pochino in questa scarmata che gli asteroidi sono sia oggetti piccoli che molto numerosi di varie dimensioni in movimento caotico nello spazio. In realtà non solo in movimento caotico nello spazio, nel senso che sono in ordine attorno al Sole, ma, insomma, già questi due esempi, proprio tratti dalla quotidianità, vi dovrebbero, come dire, ricordare un pochino quello che si può sentire così sugli asteroidi, non prestandoci particolarmente attenzione. Invece, veniamo un pochino più vicino a noi, dall'anno 1979, torniamo un pochino ai giorni d'oggi e sicuramente ricorderete la caduta dell'asteroide che ha accaduto la Cegliabinsk in Russia il 15 febbraio del 2013. Ci sono tantissimi filmati sul YouTube di questo evento e di cosa si è trattato? Si è trattato di un piccolo asteroide di una ventina di mele di diametro che è entrato nell'atmosfera terrestre e a una quota di circa 30 km è stato frammentato dalla pressione esercitata dall'atmosfera. Quindi al suolo sono caduti un certo numero di frammenti e sapete che quando i frammenti di un asteroide raggiungono il suolo allora divengono meteoriti. Quindi la meteorite che vi ho fatto vedere prima non è relativa all'evento di Cegliabinsk ma è diciamo relativa a un evento analogo che è stato successo molto tempo fa non è vero che la meteorite non è stata vista caduta come nel caso invece di Cegliabinsk. Ecco, questo vi fa capire come anche al giorno d'oggi gli asteroidi rappresentino un pericolo per il nostro pianeta l'asteroide che è caduto a Cegliabinsk non era noto preventivamente quindi la caduta è stata una sorpresa non è stato possibile scoprirlo nei giorni precedenti la caduta perché è arrivato dalla parte del sole quindi poteva essere osservabile solamente durante il giorno ma ovviamente durante il giorno chi è astrofilo di voi lo sa benissimo non potete utilizzare il telescopio a meno di non fare osservazioni solari ma sicuramente non potete osservare asteroidi invisibili all'occhio a nulla. E quindi è stata una completa sorpresa e questo vi fa capire come anche ai giorni nostri frammenti di oggetti o addirittura oggetti originali che si sono formati miliardi di anni fa tornano al sole, dopo lo vedremo, possono continuare a cadere sulla Terra. Ok? Quindi la caduta di oggetti extraterrestri sulla superficie terrestre è un evento all'ordine del giorno. Ovviamente è molto più probabile che cadano oggetti di piccole dimensioni e decine di centimetri di diametro rispetto invece a oggetti molto grandi quindi per questo che non abbiamo una cegna pisto ogni settimana ma passano diverse decenni tra un evento e l'altro ma comunque materiale extraterrestre cade continuamente sulla superficie del nostro pianeta. È caduto tassi molto elevati in passato ma continua a cadere tutto oggi. e questo è un piccolo esempio. Il caso ha voluto che nella sera c'è la biste caduta alle 9 e mezza del mattino tempo locale di Russia alla sera del 15 febbraio 2013 un piccolo asteroide, 2012 di A14, sfiorasse la superficie terrestre a soli 28.000 km di distanza. Quindi un oggetto di circa 50 metri di diametro ha sfiorato il nostro pianeta. È stata una quasi commissione perché 28.000 km diciamo sono tanti sulla scala delle dimensioni terrestri ma sono pochissime sulla scala delle dimensioni del sistema solare. E qui vi mostro alcune riprese fatte con l'osservatorio astronomico della Valle d'Aosta alcune riprese che ho fatto io l'asteroide, questo trattino luminoso gli asteroidi quando li riprendete col telescopio appaiono poi dei puntini luminosi in movimento sulla sfera celeste questo asteroide era talmente vicino che anche nei due secondi riposta per la ripresa dell'immagine sia comunque mosso in una quantità elevante e quindi appare come un piccolo segmento un piccolo segmento che vedete si spostava in avanti in cielo queste immagini sono state riprese a distanza di pochissimi secondi l'una dall'altra guardate questa stella per vedere un pochino come riferimento vedete che in pochi secondi l'asteroide si muove sensibilmente sulla sfera celeste proprio perché era così vicino si muoveva alla velocità di decina di chilometri al secondo e quindi diciamo ha impiegato poche ore diciamo per fare il passaggio avvicinato con il nostro pianeta visto che al mattino era caduto l'asteroide in Russia e alla sera diciamo c'è stato questo flyby diciamo una domanda che ci veniva posta di frequente ma i due eventi sono correlati cioè c'è gli avvicinati la caduta dell'asteroide era una specie di fratello di 2012 di A14 oppure i due oggetti erano completamente diciamo scorrelati quindi è stata una casualità la risposta giusta è che erano eventi scorrelati cioè i due asteroidi seguivano orbite completamente diverse attorno al Sole quindi diciamo non erano nemmeno fratelli se vogliamo però vedrete che sono parenti alla lontana Eventi come il passaggio avvicinato di 2012 A14 accadono spesso ogni tanto diciamo per gli eventi più eclatanti si sente sui giornali o TV oppure si legge su internet l'asteroide XXZ questa notte sfiorerà la Terra eccetera eccetera oppure ogni tanto escono fuori dei titoli un pochino terroristici nel senso nella tal data, tal giorno l'asteroide XXZ accadrà sulla Terra eccetera eccetera come era successo nel 2004 nel caso dell'asteroide Apollo che era previsto cadere sulla Terra diciamo aveva un'altra probabilità di impatto con il nostro pianeta il 13 aprile del 2029 poi uno non sente più niente sui giornali, sulla TV ma come è andata a finire? l'asteroide cadrà o non cadrà oppure, che ne so, ha cambiato idea ecco generalmente diciamo i giornali, la TV in genere non diciamo aveva fatto da giornalisti che come campo diciamo di applicazione non hanno in particolar modo l'astronomia quindi i giornalisti sono giornalisti generici in generale e quindi diciamo a loro interessa dare la notizia fare sensazione, aumentare il numero di click o il numero di copie vendute nel giornale dopodiché arrivederci ai grazie e passiamo alla prossima che non hanno notizie, vogliono tenervi diciamo svegli e si entra con l'adrenalina in circolo che diciamo favorisce la vendita nelle copie e in realtà poi non si sente più parlare di questi oggetti perché diciamo l'allarme cessa nel caso di Apopi le osservazioni successive al 2004 quindi osservazioni degli anni 2005-2006 eccetera hanno poi permesso di stabilire che nel 2029 passerà a una distanza di circa 30.000 km dalla superficie della Terra con una probabilità di impatto zero e quindi capite che non è più una notizia importante, sensazionale ok, perché non aumenta l'adrenalina, anzi l'abbassa ok, e quindi di solito non si va, diciamo non si dà la notizia del come è andato a finire e quindi uno resta un pochino così in sospeso ogni tanto archiva l'asteroide cadrà in una certa data eccetera eccetera poi non se ne sente più niente quindi sembra un pochino che, ne so, gli scienziati così non facciano bene il loro lavoro e poi chi deve dare notizia e degli risultati di questo lavoro che insomma è un pochino meno solente ma va bene, funziona così un oggetto passato recentissimamente proprio il 12 settembre di quest'anno e questo oggetto 2016 è l'X48 che è un oggetto di circa un chilometro di diametro che è passato a 7 milioni di chilometri dal nostro pianeta che è 7 milioni di chilometri sono un quadro più grande di 28 mila di 2012 di A14 ma comunque, diciamo, sulla scala del sistema solare è una quasi coinvisione, ok? questo tanto per farvi una carrellata, diciamo, di quello che potete trovare così sui giornali per quanto riguarda gli asteroidi quindi, diciamo, gli oggetti che fanno notizia sono gli altri, cioè gli oggetti che sono nella loro orbita sono prossimi alla nostra Terra ecco, allora cerchiamo di capire un pochino meglio sia gli asteroidi che le comete che, collettivamente, insieme fanno parte della cosiddetta famiglia dei corpi minori del sistema solare sapete che attorno al nostro Sole abitano gli otto pianeti principali da Mercurio a Nettuno sapete anche che dal 2006 il Plutone non è più un nord pianeta del sistema solare ma è stato riclassificato come pianeta nano non perché gli astronomi abbiano il senso del tumorismo e quindi così, vabbè, declassifichiamo Plutone perché non ci è antipatico in realtà no perché oltre l'orbita di Nettuno sono stati scoperti diversi oggetti che occupano più o meno diciamo, hanno orbite che occupano più o meno la stessa zona di spazio di Plutone e hanno grossomodo le stesse dimensioni sono un pochino più piccole ma insomma il succo è che oltre l'orbita di Nettuno Plutone non è un oggetto unico ma ce ne sono tantissimi, tantissimi Plutoni in orbita attorno al Sole e quindi diciamo Plutone ha perso la sua unicità e per questo motivo che gli astronomi diciamo, considerando il fatto che ha perso l'unicità pure non è un oggetto di grandissime dimensioni non è un oggetto di 2.300 Kg quindi grossomodo la metà della nostra Luna un pochino di più ma comunque siamo lì diciamo, hanno introdotto questa nuova categoria dei PN di Nani appunto e quindi questa operazione è stata fatta nel 2006 quindi diciamo, nel 2006 Plutone è stato tolto dal detenco ufficiale dei pianeti e si è ritornato alla situazione prima del 1930 quando appunto è stato scoperto Plutone quindi i pianeti del sistema solare ufficialmente noti da 9 Kg sono ritornati ad essere 8 ok? niente di drammatico perché in campo scientifico diciamo, si può cambiare idea ok? la scienza non è granitica, statica, imputabile come ad esempio l'astrologia che fa avanti così da 4.000 anni gli scienziati possono cambiare idea se i fatti, diciamo, impongono il cambiamento di paradigma d'accordo? proprio questo è uno dei dei grandi vantaggi della ricerca scientifica il fatto di potersi adattare alla realtà bene allora cerchiamo di esaminare un pochino meglio sia gli asteroidi sia le comune quindi stiamo andando un pochino a studiare la popolazione dei corpi minore del sistema solare quindi quegli oggetti molto piccoli dei pianeti ma che tuttavia sono in orbita attorno al Sole quindi se volete stiamo andando a vedere un pochino la polvere sotto il tappeto se volete ok? però andare a vedere ad esaminare le proprietà della polvere del nostro sistema solare è molto utile come vedrete perché ci dà delle indicazioni su come il nostro sistema solare si è formato e come si è evoluto bene allora cominciamo un pochino con gli asteroidi allora questa è una rappresentazione di segno del nostro sistema solare qui vedete al centro il nostro Sole e poi avete le orbite dei pianeti quindi Mercurio Venere Terra poi avete l'orbita di Marte questa qui e poi questa più grande l'orbita di Giove poi avete Saturno Urano ok? quindi diciamo ci sono tutte le orbite dei pianeti principali del nostro sistema solare ecco vedete che fra le orbite di Marte e di Giove c'è tutta questa fascia che è fatta da piccoli puntini che sono colorati di rosa se volete diciamo un colore contenzionale tutti questi puntini ogni puntino rappresenta un asteroide collettivamente ovviamente diciamo quella che si chiama la fascia principale degli asteroidi nella zona di spazio compresa tra Marte e Giove sono noi circa 700.000 asteroidi la stima però è che la popolazione sia molto più numerosa e che collettivamente ne esistano un paio di milioni grosso modo ok? ovviamente sono pochi gli asteroidi di grosse dimensioni dopo ne vedremo alcuni come ad esempio C'era la destra anzi C'era addirittura è classificato come pianeta un anno e invece sono numerosissimi gli asteroidi di piccole dimensioni ecco questo non è un fatto scontato non è scontato che debba essere così e c'è un motivo fisico che poi vedremo quando esamineremo l'evoluzione del nostro sistema solare però per adesso diciamo prendiamolo come dato osservativo gli asteroidi grossi sono pochi quindi quelli di diverse centinaia di chilometri di diametro mentre invece mano a mano che scendete nella scala delle dimensioni quindi mano a mano che andate alle decine di chilometri di diametro al chilometro di diametro al metro di diametro avete un numero di oggetti via via crescente ok? quindi sono numerosissimi gli oggetti piccoli e sempre più rari gli oggetti di grosse dimensioni anche se grosso qui è inteso in senso lato cioè sono oggetti che al più diciamo nella fascia principale è un oggetto più grande eccetera appunto il primo asteroide scoperto come vedremo fra poco che ha un diametro di mille chilometri ok? di sopra dei mille chilometri nella fascia principale non ci si va ecco qui vedete immaginatevi ingrandire una piccola porzione della fascia principale degli asteroidi e uno diciamo orientativamente potrebbe vedere una cosa del genere quindi una zona di spazio in cui ci sono tantissimi oggetti in forma irregolare tipicamente solide che sono tornati da siliconi metalli eccetera in orbita attorno al sole ogni asteroide ha proprio orbita quindi non è che si muovono di modo caotico così come era in asteroidi del 1979 ok? ogni asteroide ha una traiettoria ben definita determinata dalla forza di gravità del sole ma comunque diciamo non pensiate che sia così fitta la fascia principale cioè non è che che ne so supponete di dover mandare una sonda verso Giove e quindi dovete andare dall'orbita della Terra dovete passare all'orbita di Giove quindi quando attraversate la fascia degli asteroidi non si immagina di attraversare un campo minato in realtà diciamo la distanza fra un asteroide e l'altro è di diversi milioni di chilometri di decine di milioni di chilometri e quindi diciamo potete attraversare la fascia principale degli asteroidi in tutta tranquillità senza avere la sindrome dei titani d'accordo? senza avere paura di essere conquiti da qualche asteroide in orbita intorno al sole quindi questa qui è una rappresentazione un pochino pittoresca della fascia asteroidale ma diciamo un pochino così per farvi capire cosa ci si potrebbe aspettare diciamo andando all'interno della fascia non tenendo appunto che la densità è in realtà molto più bassa una cosa importante vedete questa questo cerchio giallo che questa si chiama linea della neve ed è la distanza al di sotto del quale nel nostro sistema solare il ghiaccio d'acqua non è più stabile e quindi al di sotto di quella linea il ghiaccio d'acqua sublima quindi evapora direttamente nello spazio al di sopra di questa distanza quindi da qui verso Giove verso i geni esterni invece il ghiaccio d'acqua è stabile e questo è importante vedete che cade grossomodo in mezzo alla fascia principale degli asteroidi è una specie di di confine ok non è cosiddetto come diciamo la linea potrebbe fare pensare insomma è abbastanza è abbastanza per precisa questa separazione e questa cosa è importante quando considereremo il comportamento delle comete e quando considereremo invece l'eventuale presenza di ghiaccio sugli asteroidi della fascia principale ricordatevi che per gli oggetti almeno adeguati questa linea gialla la presenza di ghiaccio sulla loro superficie è possibile di ghiaccio d'acqua proprio d'accordo? bene direi che con questo vi ho detto abbastanza sugli asteroidi vediamo allora qualche oggetto un pochino più da vicino allora gli asteroidi sono tutti invisibili a occhiuto mentre invece ad esempio i pianeti da mercurio a saturno li potete vedere tranquillamente ad occhiuto senza problemi infatti non esiste lo scopritore di gioco e lo scopritore di saturno perché sono stati patrimonio dell'umanità fin dai tempi più remoti d'accordo? quindi il primo un uomo primitivo che si è accorto che in cielo il pianeta si spostava in mezzo alle stelle diciamo il suo nome purtroppo non è stato tramandato ai posteri si è perso diciamo nelle pieghe del tempo invece esistono esistono scopritori perché sono oggetti invisibili a occhio nudo ed è necessario utilizzare un telescopio per poterli vedere e quindi sono stati scoperti solamente dopo l'introduzione del telescopio in astronomia il telescopio in astronomia è stato introdotto da Galileo nel 1609 che fu il primo a copia delle osservazioni astronomiche diciamo di questo nome e nel 1801 casualmente all'osservatorio reale di Palermo Giuseppe Piazzi scopre Cerere cioè il primo asteroide Cerere è la dia delle messe della Sicilia e quindi è stato chiamato proprio così per questo motivo e Piazzi in realtà non stava cercando asteroidi non si pensava che potessero esistere gli astronomi dell'epoca in particolare i tedeschi andavano alla ricerca del pianeta mancante fra le orbite di Marte e di Giove perché diciamo la distanza fra le orbite di Marte e di Giove è molto più grande della distanza fra gli altri dei pianeti quindi diciamo nella progressione geometrica che descrive le orbite dei pianeti c'è un buco appunto in corrispondenza della fascia degli asteroidi e gli astronomi tedeschi andavano alla ricerca di questo ipotetico pianeta mancante Piazzi in realtà non stava partecipando a questa ricerca lui stava osservando le stelle per compilare un catalogo stellare quindi per misurare la posizione delle stelle in Giove utilizzando questo strumento quello che è molto piccolo ha dei grossi cerchi graduati perché deve misurare la posizione delle stelle con una buona precisione ma il diametro dell'ottica è abbastanza piccolo è un cannocchiale da 7 cm e mezzo di apertura ok? è un'apertura che diciamo se siete astrogli e avete il vostro telescopio ha almeno 20 cm di apertura non sarebbero se ne discutono 7 cm e mezzo è uno strumento di prestazioni ottiche molto modeste ma però è sufficiente per misurare la posizione in cerchio delle stelle se avete a disposizione questi ottimi cerchi graduati quindi questo è quello dove invece piazzi misurava la posizione delle stelle e proprio in questo modo che scoprì c'era che scoprì che si spostava in cielo si spostava in cielo perché tutto il sole e tutti i asteroidi anche al giorno d'oggi si scoprono in questo modo voi quando puntate il telescopio verso un asteroide non è che vedete la superficie dell'oggetto con i vari dettagli i cratieri eccetera eccetera vedete solo un puntino luminoso che diciamo se dà un'occhiata così rapidamente non riuscite a distinguere dallo sfondo delle stelle quindi sono assolutamente anonimi e diciamo hanno un buon grado di mimetismo invece per rendervi conto che quello è un asteroide dovete osservarlo almeno per qualche minuto nel caso di piazzi lui lascia passare 24 ore e allora sì che cambiando la posizione dell'asteroide vi rendete conto che quello non è una stella dell'osfondo ma è un oggetto del sistema solare che sta orbitando attorno al Sole una volta scoperta c'era e fu calcolata l'orbita e ci si rese conto che cadeva all'interno di quella che adesso è la fascia principale degli asteroidi era 2,8 astronautiche del Sole ovviamente all'epoca c'era anche quei migliori telescopi erano un puntino e anzi che anzi pensava di aver scoperto il pianeta mancante quindi era tutto contento e per diversi anni Cerere fu considerato un pianeta d'accordo però William Herschel che era il maggiore astronomo dell'epoca quello più importante quello che era in grado di costruirsi con le proprie mani i maggiori telescopi del tempo utilizzando i suoi strumenti ad altri ingrandimenti non riuscì a vedere il disco di Cerere e quindi diciamo capì subito che doveva essere un corpo estremamente piccolo quindi sicuramente non il pianeta mancante che andavano cercando gli astronomi tedeschi e ragione per cui coniò proprio il termine asteroide per diciamo identificare questi corpi le cerere per primo asteroide significa semplicemente di aspetto stellare perché se riguardate il telescopio non si distinguono dalle stelle che avvista il telescopio apparino tutti fuori ok? ecco qui invece diciamo le cose sono cambiate nel 1201 diciamo c'era una disposizione solamente i telescopi al suolo adesso invece abbiamo le sonde in particolare quelle della NASA che vanno in giro per il sistema solare a fotografare i corpi più interessanti e in particolare la missione 9 del febbraio 2015 ha mappato tutta la superficie di Cerve ha fatto delle scopette interessanti e ha confermato la presenza di ghiaccio d'acqua al di sotto della superficie del pianeta e in particolare vedete qui il famoso cratere Occato di davanti e di davanti con queste strutture biancastre sul fondo che indicano proprio questo non è direttamente ghiaccio d'acqua ma sono dei sali dovuti all'evaporazione del ghiaccio quindi il residuo dell'evaporazione del ghiaccio d'acqua e quindi indicano che dopo la formazione del cratere devono essere stati portati alla superficie degli strati di ghiaccio sottostante e questi sono sublimati lasciando quel residuo e un castro che si vede quindi vedete che diciamo Cerve è stato scoperto nel 1801 ma è solamente nel 2015 che conosciamo qualche dettaglio importante della sua costituzione fisica prima del 2015 era stata osservata con il telescopio spaziale e Cena ma essendo un oggetto molto piccolo con migliaia di chilometri di diametro diciamo la risoluzione anche del telescopio spaziale è troppo bassa per poter diciamo fornire indicazioni dettagliate come queste anche se un vago Cena queste due macchie molto luminose era già stato diciamo messo in evidenza dal telescopio spaziale un altro asteroide molto famoso è Vesta che è un oggetto molto più piccolo e il secondo per dimensioni della fascia principale quindi dobbiamo cercare che è più grande 1000 km di diametro Vesta invece siamo già a metà siamo già a 550 km di diametro e anche questo asteroide è stato esplorato dalla missione non nel 2011 2011 e qui in particolare vedete che anche se sono oggetti piccoli hanno delle caratteristiche superficiali molto intriganti vedete qui sulla superficie ci sono queste linee parallele che sono dovute agli eventi alle collisioni che ha subito Vesta nel corso della sua storia ultima ecco vediamo un altro fino le comete le comete si distinguono dagli asteroidi sostanzialmente non solo come aspetto fisico ad esempio perché hanno la chioma la coda eccetera eccetera ma soprattutto per le orbite mentre diciamo le orbite degli asteroidi della fascia principale sono sostanzialmente circolari ovviamente hanno una piccola eccentricità che può essere più o meno grande ma insomma sostanzialmente le orbite delle comete invece sono delle ellissi estremamente eccentiche estremamente allungate e quindi le comete preferenzialmente arrivano dalle parti più esterne del nostro sistema solare ok quindi sono oggetti che arrivano ad esempio da quella che si chiama la nube di orbit questa concentrazione sferoidale di comete ha circa centomila volte la distanza media Terra e che contiene miliardi e miliardi di nuclei come tali difficili da vedere con il telescopio se non quando casualmente le loro orbite vengono perturbate e le comete cominciano a spostarsi su orbite molto vicine al sole e al pianeta più interni è solo in questo modo che possiamo scoprirle ma da come cadono le comete della nube di orbit verso il sole possiamo ripostruire la struttura stessa della nube ok e quindi diciamo è stata come dire dedotta l'esistenza di questa nube sferoidale di comete che circonda l'intero sistema solare guardate tutto il sistema solare di cui abbiamo parlato fino ad ora cade all'interno di questo quadratino d'accordo? questa qui è l'ambita di Plutone anzi questa qui è l'ambita di un oggetto della fascia della planetuniana quindi il sistema solare a questa scala è praticamente un puntino e vedete tutta la nube sferoidale che circonda il nostro sole tutti questi nuclei sono stati posizionati in questa zona sostanzialmente negli primi centinaia di milioni di anni della formazione del nostro sistema solare e se voi andate a vedere da vicino i nuclei come tali ottenete diciamo immagini di questo tipo questa è un'immagine molto famosa perché un'immagine ripresa dalla sonda rosetta la sonda della missione dell'ESA che è terminata pochi giorni fa è il nucleo della Giulio Ortenasinico una cometa grossomodo che ha un asse maggiore di 4 km quindi un oggetto relativamente piccolo però vedete che il nucleo è un nucleo molto particolare perché è formato dall'unione di due nuclei cometali vistiti quindi diciamo di anni fa quando questi nuclei cometali si sono formati ad un certo punto si sono incontrati nello spazio e la loro velocità relativa era talmente bassa che si sono semplicemente appoggiati l'uno all'altro diventando un unico nucleo cometale non tutte le comete sono bizzarre come questa tipicamente il nucleo di una cometa ha un viaggio di qualche chilometro ed è diciamo ha questo aspetto è irregolare è pieno di punte crepaci crateri e così via la cosa importante è che a differenza degli asteroidi della fascia principale diciamo la cui composizione è prevalente parlo di rocce silicati e metalli i numeri e i gometali invece hanno per gran parte sono fatti di ghiaccio d'acqua ma proprio perché si sono formati ai confini del nostro sistema solare perché provengono dalle regioni più esterne del nostro sistema solare e quindi regioni fredde in cui era possibile la presenza di elementi volabili in forma solita quindi tipicamente ghiaccio bene adesso che abbiamo presentato un pochino diciamo gli attori della nostra commedia di asteroidi e comete allora cerchiamo di capire quale ruolo hanno avuto nell'evoluzione biologica della Terra quindi questa è la grande domanda che ci facciamo comete e asteroidi pur essendo diciamo pur facendo parte della popolazione dei corpi minori del sistema solare non hanno avuto un ruolo minore come vedremo per quanto riguarda l'evoluzione biologica della Terra ma anzi sono stati dei protagonisti d'accordo? sono stati proprio dei veri protagonisti per quanto riguarda la comparsa della vita sul nostro pianeta se non avessimo avuto comete in particolare gli asteroidi non staremmo qui a raccontarcela ok? non staremmo qui a cercare di capire da dove veniamo allora torniamo a 5 miliardi di anni fa al momento della formazione del nostro sistema solare allora tipicamente le stelle nascono per la condensazione per il collasso gravitazionale di numi di gas di polveri che diciamo per effetto della gravità collassano su se stessi e al centro formano una palla di idrogide ed elio che è sostanzialmente la stella e attorno invece si forma quello che si chiama un disco protoplanetario ok? questa è un'immagine una rappresentazione pittorica di quella che doveva essere la nascita del nostro sistema solare 5 miliardi di anni fa ma strutture di questo tipo sono state osservate ad esempio dal telescopio spaziale Apple nella grande nebulosa di Orione o molto più recentemente dal telescopio a microonde Alma attorno ad alcune stelle della costellazione del Toro ok? quindi diciamo strutture di questo tipo sono reali non è una fantasia degli astronomi quindi al centro avete la giovane stella che si è appena formata per il collasso dei glumi di gas e attorno avete il disco protoplanetario fatto da idrogeno e elio e altri gas minori e da una certa quantità di granelli di polvere tenete presente che in grosso modo diciamo la massa predominante della nuve protoplanetaria è fatta di gas di idrogeno e elio mentre invece diciamo la popolazione di particelle di polvere è attorno all'1-2% della massa ok? quindi diciamo è una componente minoritaria ma comunque importante importante perché proprio dall'aggregazione delle particelle di polvere dall'aggregazione prima elettrostatica con le forze intermolecolari e poi dopo gravitazionale quando i glumi crescono abbastanza che possano nascere corpi di dimensioni macroscopiche quindi primi planetesimi di qualche diciamo con dimensione dell'ordine di 10-100 metri poi dopo gli asteroidi dimensioni di alcune centinaia di chilometri e poi la formazione vera e propria dei pianeti ok? sempre per aggregazioni successive quindi diciamo diciamo un processo abbastanza lento ma diciamo che in qualche centinaio di milioni di anni vi può portare alla formazione dei pianeti ecco una cosa importante quando voi considerate una nube protoplanetaria una cosa molto importante che magari diciamo uno non considera effettivamente un parametro molto importante è l'andamento della temperatura che non deve essere uniforme ovviamente perché al centro avete la stella quindi una stella è un corpo celeste in grado di mettere luce a calore proprio per effetto delle reazioni termonucleari che avvengono nel nucleo quindi ovvio che se voi siete nella nube protoplanetaria vicino alla stella vi trovate in una regione in cui la temperatura è molto più alta rispetto ad esempio alla periferia qui ad esempio siamo all'altezza di saturno dal sole questo diciamo è un diagramma che dimostra l'andamento della temperatura nella nube protoplanetaria che ha originato il nostro sistema solale vedete che all'altezza di saturno la temperatura è molto bassa di poche centinaia di gradi K mentre invece questa linea rossa rappresenta un pochino la posizione dove è nata la nostra terra quindi qui la temperatura era molto più elevata d'accordo? cosa vuol dire temperature più elevate e temperature più basse? vuol dire che se siete molto lontani dalla stella allora diciamo il vostro pianeta come materiale da costruzione può utilizzare ad esempio anche il ghiaccio d'acqua ma se siete molto più vicini alla stella siete in una regione con con la temperatura elevata allora lì il ghiaccio d'acqua non si forma l'acqua evapora quindi le molecole sono allo stato di vapore quindi l'unica cosa che potete utilizzare come materiale da costruzione per il vostro pianeta sono i granelli di polvere che sono fatti di silicate quindi di materiale che difficilmente evapora anche ad alta temperatura ok? quindi vuol dire che vicino alla stella avete del materiale che è povero di elementi volatili quindi povero di acqua è ricco ad esempio di metalli di silicio e cose del genere e innanzitutto avete anche meno materiale a disposizione d'accordo? quindi a seconda di della distanza in cui voi vi trovate possono nascere solamente alcuni tipi di pianeti e non altri fateci caso nel nostro sistema solare quali sono i pianeti più vicini al sole? che sono Curio, Terra, Terra e Marte tutti questi pianeti sono pianeti di tipo terrestre orciosi se volete terrestre non vuol dire che hanno tutti le palle gli oceani su cui andarsi a prendere il sole vuol semplicemente dire che diciamo la loro costituzione fisica come parte solida del pianeta è simile a quella della nostra Terra quindi tutti questi pianeti sono pianeti con un piccolo diametro hanno delle atmosfere rarefatte ed hanno un'elevata densità media perché sono parte di silicati e di metalli quindi elementi molto pesanti beh perché solamente questi elementi potevano condensarsi ad una distanza così ridotta dal sole che si era appena formato perché lì la temperatura della nebulosa cronoclanetaria era troppo elevata viceversa cosa succede una volta superata la fascia degli asteroidi che inizia la regione dei giganti gassosi quindi Giove Saturno Uran e Nettuno questi pianeti sono molto molto più grandi delle nostre qui le scale non sono diciamo vanno bene le scale relative per gruppi ma fra ad esempio la Terra ha una massa che è un trecentesimo di quella di Giove d'accordo? e Giove ha un diametro che 10 volte 11 volte superiore a quello della nostra Terra quindi questi qui sono ovviamente pianeti estremamente grandi giganti gassosi appunto e sono dotati di un grande diametro ad esempio Giove ha un centocinquantamila chilometri di diametro e hanno delle spesse atmosfere fatte di idrogeno ed elio perché lì la forza di gravità del nucleo solido del pianeta è talmente elevata che è in grado di catturare gas così volatili come l'idrogeno ed elio cosa che invece diciamo difficilmente la nostra Terra può fare è ancora meno ad esempio un pianeta piccolo che è totalmente primo di atmosfera quindi l'andamento della temperatura all'interno della nebulosa proprio planetaria da cui è nato il Sole e il sistema solare ci spiega la dicotomia nella formazione dei pianeti cioè perché i pianeti rocciosi sono vicini al Sole e perché i giganti gassosi sono invece quelli più lontani ok? è proprio una questione fisica di temperatura allora andiamo dentro alla fascia asteroidale primordiale quando ci sono dei belli asteroidi di alcune centinaia di chilometri di triangolo che si sono appena formati nella fascia principale diciamo gli asteroidi non si sono aggregati a formare un pianeta per effetto delle perturbazioni gravitazionali operate da Giove Giove è un pianeta estremamente massiccio è più grande del sistema solare come vi ho detto ha una massa di oltre 300 volte quella della Terra e quindi poi il suo campo gravitazionale ha perturbato la zona della fascia degli asteroidi che diciamo è confinante con l'orbita di Giove come avete visto nel disegno all'inizio e quindi ha ripetito l'aggregazione di un unico pianeta e anche ha disturbato la crescita di Marte vedete che Marte è un pianeta molto piccolo ha un decimo la massa della Terra d'accordo? proprio perché ha subito anche lui seppur in visora inferiore questo effetto perturbativo da parte di Giove quindi se noi 5 miliardi di anni fa 4 miliardi e mezzo di anni fa fossimo entrati nella fascia principale degli asteroidi avremmo visto che cosa? diversi asteroidi numerosissimi asteroidi di alcune centinaia di chilometri di diagramma fra cui avvengono delle collisioni necessariamente perché avete un grande numero di oggetti in una piccola regione di spazio e quindi in pochi milioni di anni potete avere diverse collisioni anche molto distruttive cosa succede quando scontrate due oggetti rocciosi solidi di diverse centinaia di chilometri di diametro? che questi oggetti si spacciano ovviamente ma cosa succede? non so se avete mai trovato che ne so a spaccare una pietra con un martello vi sarete presi conto che se fate un'operazione del genere o tre le dito ovviamente ottenete pochi frammenti grandi e tantissimi frammenti piccoli più il frammento che considerate piccolo e più sono numerosi quelli della sua taglia è così vi spiegato come mai nella fascia principale degli asteroidi avete pochi oggetti grossi nella fascia principale attuale avete pochi oggetti grossi che sono il diciamo gli oggetti che sono sopravvissuti quindi ad esempio l'esta è un sopravvissuto nella fascia degli asteroidi del primo obiettivo così come anche c'era e invece avete tantissimi oggetti di piccolo obiettivo proprio perché sono i frammenti dovute alle collisioni degli asteroidi con se stessi quindi nella fascia principale l'evoluzione è di tipo collisionale quindi immaginate questi oggetti che vanno incontro alle cifre con collisioni e spardano i frammenti su orbite che ovviamente sono ancora e biocentriche ma questi frammenti possono essere perturbati in modo molto efficace di nuovo da Giove e da Saturno per effetto della forza di gravità e perturbando le orbite questi frammenti possono essere inviati verso il sistema solare interno e cioè verso Marte verso la Terra verso Venere e Mercurio quindi il meccanismo è questo avete oggetti della fascia principale asteroidale primordiale si scontrano fra di loro un grandissimo numero di frammenti viene generato e una parte considerevole di questi frammenti viene perturbata da Giove e Saturno e in parte inviata su orbite che possono intersecare quella dei piedi del sistema solare interno ok? quindi Giove se volete fa un pochino il ruolo del battitore nel basto che mi manda le palle ad alta velocità in cui le palle rappresentano gli asteroidi ecco questo meccanismo di trasferimento dei frammenti degli asteroidi dalla fascia principale al sistema solare interno è un meccanismo fondamentale per quanto riguarda la nascita della vita sulla Terra e infatti andiamo a vedere un pochino com'era il nostro pianeta all'epoca quindi lasciamo un attimo da parte la fascia principale degli asteroidi e lasciamo gli asteroidi lì a scontrarsi gli uni con gli altri a spaccarsi in frammenti eccetera eccetera e andiamo a vedere com'era il nostro pianeta il nostro pianeta era molto vicino al Sole più o meno alla stessa distanza che occupa attualmente e quindi cosa vuol dire? vuol dire che raccolano gli elementi volatili perché temperature elevate di diverse centinaia di Kelvin d'accordo? implica l'assenza di elementi volatili come ad esempio il dottore A quindi il nostro pianeta è un pianeta sostanzialmente arido e in ospitale è una grossa sfera mista di silicati e metalli mescolati insieme quindi gli elementi più retrattati d'accordo? e diciamo così per mettere la cittadina sulla torta centinaia di milioni di anni dopo essersi formata la Terra subisce una grossa collisione da parte di un oggetto di taglia planetaria grossomodo con la massa di mar quindi con un decimo della massa della Terra una collisione obliqua che provoca la nascita la formazione della nostra luna quindi diciamo ha una storia estremamente tormentata quindi un posto molto diverso da come lo conosciamo attualmente ma la Terra di oggi è un pianeta fantastico nel suo sistema solare è unico nel suo genere sostanzialmente perché è ricoperta per un 70% da acqua allo stato liquido acqua che ospita delle forme di mica ok l'acqua è un fantastico solvente è in grado di sciogliere diverse sostanze organiche ed è l'unico liquido che quando congela aumenta di volume proprio per la struttura elettrica delle sue molecole e sostanzialmente diciamo quello che abbiamo imparato sulla biologia dei viventi è che tutte le forme di vita conosciute hanno bisogno di acqua d'accordo? per poter espletare le loro funzioni biologiche di base hanno assolutamente bisogno di acqua e considerate che diciamo l'acqua che ricopre la nostra superficie terrestre ricopre circa diciamo gli oceani ricoprono circa il 70% della superficie della nostra terra e diciamo gli oceani sono un habitat per circa 230 mila specie viventi conosciute ma se le stimano molte molte di più si arriva a circa 2 milioni di specie viventi marine quindi la stragrande maggioranza delle specie viventi contenute negli oceani sono ancora da scoprire da trovare da classificare ok conosciamo circa il 10% delle specie viventi marine nei nostri oceani quindi sappiamo ancora molto poco per quanto riguarda diciamo le forme di vita che possiamo trovare sul nostro pianeta proprio perché trovandosi sotto degli oceani sono luoghi difficilmente eccessivi ok non è che potete andarci così a fare la passeggiata ecco non pensate però che diciamo la terra sia un pianeta così ricco di acqua perché non è ricco di acqua in superficie ma se voi prendete tutta l'acqua degli oceani terrestri e la confrontate con l'acqua ad esempio posseduta dal satellite Europa di Giove che è in orbita attorno a Giove vedete che più o meno le quantità si equivalgono ok quindi insomma l'acqua sulla terra c'è abbondante in superficie ma non è che diciamo la terra ha una composizione in cui l'acqua entra in modo preponderante tanto è vero che la densità media del nostro pianeta è di 5,5 cm al cm³ e l'acqua dei nostri osceani è solo una piccolissima parazione della massa naturale della terra va bene ecco allora quello che vogliamo capire è di cosa è fatta l'acqua e e da dove arriva l'acqua che adesso vediamo sulla nostra terra formare gli oceani ok quindi se uscite di qui camminate e arrivate al muolo vedete che ci hanno usato di acqua noi siamo tutti d'accordo vogliamo capire da dove arriva quest'acqua per capire da dove arriva l'acqua degli oceani terrestri quindi dobbiamo capire meglio di che cosa è fatta l'acqua perché esiste acqua e acqua cioè potete distinguere tra acqua e acqua allora questa è una rappresentazione diciamo artistica di una molecola di acqua che è formata da un atomo di ossigeno e da due atomi di idrogeno allora la cosa interessante è che l'ossigeno e l'idrogeno hanno degli elettroni in orbita attorno ai loro rispettivi nuclei e questi elettroni queste cariche negative vengono messe diciamo un po' così in comune quando gli atomi formano la molecola e questa distribuzione vi rappresenta la distribuzione della carica elettrica all'interno della molecola di acqua allora il rosso è carica elettrica altrettamente negativa quindi vedete che attorno all'atomo di ossigeno c'è una carica elettrica che globalmente è negativa proprio per quanto riguarda la lube elettronica esterna mentre invece vicino agli atomi di idrogeno la carica invece è positiva ok quindi la molecola di acqua non ha una distribuzione uniforme della carica elettrica ma ha una distribuzione simmetrica quindi è una molecola si dice polare perché è polarizzata e anche se diciamo in base alla sua massa se voi considerate semplicemente la massa della molecola d'acqua l'acqua in stato liquido non dovrebbe esistere alla temperatura ambiente di 20 gradi centigradi perché dovrebbe già evaporare tutta considerate ad esempio la CO2 la CO2 che assozza la nitride carbonica d'accordo? e diciamo è una molecola più pesante di quella dell'acqua perché ha un atomo di carbonio e due atomi di ossigeno d'accordo? mentre invece l'acqua ha un solo atomo di ossigeno e due atomi di idrogeno perché l'atomo di idrogeno è l'elemento più o zero di tutto l'universo conosciuto quindi pur essendo la molecola di acqua molto più leggera della molecola di nitride carbonica la nitride carbonica è volatile d'accordo? la temperatura ambiente è un gas mentre invece l'acqua è un liquido e questo è importante perché proprio diciamo questo comportamento è proprio dovuta alla sua natura elettrica in effetti fra una molecola di acqua e un'altra si forma un legame che è il famoso legame idrogeno perché immaginate un'altra molecola di acqua allora sapete che due cariche di segno a un posto e due cariche elettriche di segno a un posto si attraccano quindi quando avete due molecole che cosa succede? succede che la parte di carica positiva che si trova qui in prossimità dell'atomo di idrogeno si andrà ad appiccicare alla parte negativa che si trova in prossimità dell'atomo di ossigeno d'accordo? e quindi le molecole di acqua hanno una forza di attrazione elettrostatica che ne impedisce l'evaporazione e per questo che l'acqua si mantiene allo stato liquido anche a temperatura ambiente ok? altrimenti potrebbe tranquillamente se non ci fosse il legame idrogeno potrebbe bollire a meno 140 gradi centicrati mentre invece sappiamo tutti che bolle a 100 gradi centicrati d'accordo? bene allora però vi dicevo c'è acqua e acqua in che senso? nel senso che gli atomi di idrogeno diciamo l'idrogeno in generale è formato da un atomo che ha come nucleo un protone e diciamo in ordine intorno al nucleo c'è l'elettrone però ci sono anche degli isotopi dell'idrogeno quindi diciamo atomi che hanno le stesse proprietà chimiche ma hanno massa superiore perché ad esempio avete oltre al protone del nucleo dell'idrogeno normale un neutrone un neutrone è una particella neutro come dice il nome subatomica e che ha una massa a grosso modo paragonabile a quella del protone quindi in questo che si chiama l'atomo di deuterio che è l'idrogeno pesante se volete la massa del nucleo è doppia rispetto diciamo all'idrogeno normale però le proprietà chimiche sono le stesse perché le proprietà chimiche sono determinate dagli elettroni che sono in ordine attorno al nucleo e quello non cambia nel deuterio è sempre uno come nell'idrogeno normale quindi allora capite che un atomo di deuterio può sostituire tranquillamente un atomo di idrogeno normale nella molecola d'acqua perché gli effetti chimici diciamo è completamente equivalente quindi se voi in una molecola di di acqua prendete togliete un atomo di idrogeno e ci mettete un atomo di neuterio ottenete una molecola di acqua pesante ok perché ovviamente avete aumentato la massa dell'idrogeno e quindi avete aumentato diciamo la massa della vostra molecola d'acqua allora grosso modo qui sulla terra nell'acqua terrestre per ogni milione di atomi di idrogeno nell'acqua avete 156 atomi di deuterio che sono pochini ok però potete diciamo misurare la presenza scendendo la molecola di acqua e con un nuovo dispositivo che si chiama spetronico di massa misurare la massa degli atomi di idrogeno che escono fuori dalla scomposizione dell'acqua ok quindi in questo modo potete vedere che c'è un piccolo mucchietto di atomi di deuterio ok ogni diciamo un milione di atomi di idrogeno 156 solo di deuterio bene e questo ci aiuta nel capire l'origine dell'acqua terrestre certo è un validissimo aiuto adesso cerchiamo di capire perché allora prima del 1986 quindi prima della missione della sonda Giotto verso l'alto di Italia in generale gli astronomi ritenevano che l'acqua degli oceani terrestri fosse stata portata dalle comete immaginate la terra si forma alla distanza di 150 milioni di chilometri dal sole in una regione in cui la lube protoplanetaria è molto calda quindi il pianeta si forma sì ma è fatto di elementi pesanti quindi il silicio le calche eccetera quindi poveri elementi volabili niente acqua ok poi la terra si raffredda ok che passa la catastrofe della formazione della luna ma comunque a un certo momento si formano una crosta solida e poi ci sono tantissime comete in giro per il sistema solare proprio come diciamo un risultato dell'aggregazione dei dei granieri di polvere ghiaccio che si trovano all'estrema periferia del nostro sistema solare queste comete sono perturbate nelle orbite dei giganti gassosi un certo numero si indirige verso il sistema solare interno collidono con la nostra terra e quindi rilasciano grandissime quantità di acqua sul nostro pianeta e mano a mano punto dopo collisione dopo collisione diciamo riformiscono di acqua gli oceani terrestri e quindi li fanno nascere nel vero e proprio senso della parola quindi questo era lo scenario prima del 1986 nel 1986 sapete passa la cometa di Arlie al periodo e quindi c'è la famosa missione Giotto belleza agenzia spaziale europea che il 13 marzo del 1986 fa il fly-by con il nucleo della Arlie che era già in allontanamento al sole la missione Giotto era una delle cinque sonde che erano state mandate diciamo a esplorare la cometa ma è stata quella che è passata più vicino al nucleo e quindi è stata quella che ha ottenuto la prima storia di immagine del nucleo di una cometa e in particolare di una cometa famosa come quella di Arlie ma la missione Giotto oltre a riprendere quelle immagini spettacolari eccetera fece anche molto di più cioè misurò il rapporto fra gli atomi di Deuterio il numero di atomi di Deuterio prodotti nella cometa durante la sua fase di evaporazione diviso il numero di atomi di Idrogeno quindi misurò il rapporto numero di atomi di Deuterio diviso il numero di atomi di Idrogeno nell'acqua prodotta dalla cometa ok quando le cometa sono abbastanza vicino al sole essendo fatte di diaccio sublimano quindi rilasciano nello spazio il motore acqueo e voi potete misurare con tecniche spettoroscopiche il rapporto tra gli atomi di Deuterio e gli atomi di Idrogeno ecco queste misure rivelarono un fatto sorprendente assolutamente inaspettato dato che fece cronare la teoria delle comete che portano l'acqua degli oceani terrestri e infatti la situazione è diciamo sintetizzata in questo grafico che vedete qui allora questo è il rapporto Deuterio-Idrogeno per la Terra d'accordo? ecco che vale 1 su 6400 circa ecco qui vedete il valore Deuterio-Idrogeno ottenuto dalle misure della missione Giotto vedete che è completamente al di sopra di questa linea d'accordo? quindi il rapporto Deuterio-Idrogeno nell'acqua e nella cometa di Alley non è uguale a quello degli oceani terrestri ok? la composizione è completamente diversa quindi che vuol dire? vuol dire che le comete non sono state il principale meccanismo per il rapporto di acqua degli oceani terrestri in effetti guardate tutte queste altre comete sono movete che provengono direttamente dalla nuve di orde quindi sono si muovono su orbite estremamente allungate vedete che il rapporto Deuterio-Idrogeno è completamente al di sopra del rapporto Deuterio-Idrogeno della Terra ok? solamente ovviamente questa questa cometa qui la 103 P A dei due che ha un rapporto ossidio a quello degli oceani terrestri ma ad esempio guardate qui la 67 P la cometa con il nucleo doppio che vi ho fatto vedere prima ha un rapporto Deuterio-Idrogeno completamente diverso da quello dell'acqua degli oceani terrestri quindi come dire le comete sì possono avere dato un contributo ma sicuramente l'acqua che abbiamo qui sulla Terra non proviene principalmente da loro perché sennò avremmo un rapporto Deuterio-Idrogeno simile la linea della Terra doveva essere qui non qua sotto ok? mentre invece cos'è che concorde con il rapporto Deuterio-Idrogeno della Terra? qui vedete queste sono il rapporto Deuterio-Idrogeno chiamato dalle meteorite che le meteorite sono frammenti di asteroidi che sono stati ritrovati sulla Terra e vedete che grossomodo il rapporto Deuterio-Idrogeno e l'acqua contenuta all'interno delle rocce che formano i meteoriti è concorde con quello degli oceani terrestri quindi sono gli asteroidi la fascia principale degli asteroidi la sorgente principale di acqua degli oceani terrestri quindi una visione completamente opposta rispetto a quella del 1986 e quindi qual'è lo scenario? lo scenario è questo questo grafico dimostra il numero di collisioni con la Terra in funzione del tempo così come è stato costruito dallo studio dei crateri sulla superficie della Luna ok? allora vedete che le collisioni sono tantissime appena formato il sistema solare siamo a 4,3 miliardi di anni fa dove i detriti in giro per il sistema solare sono tantissimi i pianeti si erano ancora formati e in giro per il sistema solare esistevano tantissimi asteroidi la specie della fascia principale che era molto più limpia di materiale rispetto a quella attuale quindi avete un grandissimo numero di collisioni poi una diminuzione e poi c'è un picco attorno ai 3,9 miliardi di anni fa che è noto come il tardo bombardamento primordiale e subito dopo avete evidenza di acqua liquida alla superficie della Terra subito dopo il tardo bombardamento primordiale uno dice come cava ho fatto a capirlo beh sulla sulla Terra sono stati trovati degli strati sedimentari che quindi si possono formare solamente in presenza di acqua liquida che hanno un'età di circa 3,8 miliardi di anni fa ok quindi diciamo gli sedimenti più ottivi che possiamo trovare sulla superficie della nostra Terra che non è facile perché la superficie della nostra Terra è una superficie di Nanga che ricicla completamente la crosta quindi è difficile trovare dei campioni originali così antichi però qualche cosa è stato trovato e questo ha permesso di stabilire che diciamo le prime evidenze che sono rimaste della presenza di acqua liquida in superficie è dadabile a 3,8 miliardi di anni fa quindi 100 milioni di anni dopo il picco del tardo bombardamento primordiale tardo bombardamento primordiale che evidentemente è dovuto agli asteroidi come ha determinato l'esame del rapporto dei uteri idrogeno nell'acqua terrestre e nell'acqua asteroidale dopodiché il tasso di collisione diminuisce per diciamo rincoverirsi della popolazione degli asteroidi che per arrivare diciamo al tasso attuale è molto basso ma non è zero come ci insegna l'evento di Chandler abbiamo prove diretti dell'esistenza di acqua sull'asteroide oltre all'acqua che si trova nelle meteoriti certo che ci sono prove ad esempio per l'asteroide 24 Tennis è un asteroide della fascia principale e nel 2009 l'analisi infrarossa degli spetri della superficie di questo asteroide hanno mostrato che tutta la superficie è formata da ghiaccio d'acqua e composti organici ok? quindi questo diciamo è stata una scoperta in attesa anche per gli stessi astronomi perché ormai si era sedimentata l'idea che gli asteroidi non potessero essere una sorgente di acqua importante mentre invece questo capovolge completamente tutto d'accordo? e non solo 24 Tennis ma lo stesso Cerere perché a parte i risultati della missione down della NASA ma qui già nel 2012 con il telescopio spaziale Airship con il telescopio infrarosso era stata messa in evidenza la presenza di vapore acqueo attorno a Cerere ok? pur senza diciamo la risolta del disco eccetera ma era stato messo in evidenza il fatto che ogni tanto attorno a Cerere compaivano delle nubi di vapore acqueo quindi vuol dire che ci devono essere dei geyser sulla superficie di Cerere che magari si attivano ogni tanto non sempre e magari che hanno una missione molto debole che però sono in grado di riversare vapore acqueo direttamente nello spazio e quindi questa è diciamo una prova importante che fa capire come l'acqua sia presente anche nella fascia principale degli asteroidi che vi ricordo contiene a metà la famosa linea del Nero quindi è fisicamente possibile che il ghiaccio d'acqua sia stabile quindi si possa formare tranquillamente nella regione degli asteroidi quindi vi assunto siamo arrivati a questo punto allora abbiamo gli oceani terrestri che si sono formati grazie alla caduta degli asteroidi sulla superficie della Terra deviati dalle loro orbite dalle perturbazioni gravitazionali di Giove e Saturno ok? che hanno formato gli oceani della Terra che altrimenti sarebbe stato un pianeta aio perché si è formato in una zona della lunga con una scarsa quantità di elementi volatili quindi prima si è formato il supporto e poi è stata aggiunta l'acqua d'accordo? l'acqua stabile a questo punto perché il campo gravitazionale della Terra è in grado di trattenere a sé diciamo il vapore aqua liberato durante la collisione con l'asteroide e quindi capite che quando si parla di pianete extrasolari e si dice ma il pianeta extrasolare è nella fascia di abitabilità della stella e quindi è probabile che abbia diciamo opportune condizioni che sia diciamo che abbia dell'acqua liquida in superficie un momento però perché la Terra si trova nella fascia di abitabilità del Sole ma se non ci fossero stati i giochi e Saturno a deflettere i frammenti degli asteroidi verso il sistema solare interno quindi a portare acqua sul nostro pianeta il nostro pianeta sarebbe sì nella fascia di abitabilità ma sarebbe poverissimo d'acqua e quindi per quello che ne sappiamo privo di vita nel modo più assoluto d'accordo? quindi vedete che non basta con un pianeta extrasolare sia nella fascia di abitabilità cioè in quel regio di distanze in cui potenzialmente c'è l'acqua liquida in superficie bisogna che qualcuno ce l'abbia portata però l'acqua d'accordo? e questo dipende dalla struttura dell'intero sistema solare quindi non è un fatto diciamo isolato non è che automaticamente un pianeta che si trova nella fascia di abitabilità ha l'acqua a disposizione ok? è solito detto perché dipende dall'ambiente in cui si è formato e in cui soprattutto si è evoluto bene ovviamente diciamo gli oceani terrestri sono molto interessanti chiaramente perché hanno dato l'ingegno della vita di cui adesso parleremo non sono però gli unici oceani di acqua nel nostro sistema solare sono almeno altri due i corpi ceresti che possiedono degli oceani di acqua liquida al di sotto della superficie il primo è il satellite Europa attorno a Giove abbiamo già parlato prima questa è una volta della superficie d'Europa ripresa dalla missione Galileo della NASA del 1998 e qui vedete le fratture nella superficie di ghiaccio del satellite e vedete anche il tribo della presenza di crateri da impatto perché è una superficie estremamente giovane e dinamica come quella terrestre anche sulla terra i crateri da impatto sono molto pochi ma non perché non cadono asteroi ma perché la crosta viene continuamente riciclata e fusa e qui succede la stessa cosa quindi anche qui ci devono essere dei meccanismi in alto che riportano al riciclo della superficie ghiacciata del satellite e non solo ma nel 2013 il telescopio spaziale è stata messa in evidenza la presenza di geyser alla superficie d'Europa che sparano nello spazio oggetti di vapore quindi questa è la prova che effettivamente sotto le decine di chilometri di crosta ghiacciata del satellite si trova un immenso cielo di acqua allo stato liquido quindi potenzialmente in grado di ospitare forme di vita perché può utilizzare come sorgente di energia il nucleo stesso caldo del satellite ricordatevi che non basta l'acqua per avere la vita e dopo lo vedremo ci vuole anche una sorgente di energia e ci vogliono anche ingredienti adatti e adesso vedremo quali sono questi ingredienti l'altro oceano invece è quella prima luna di Saturno che è incelato e qui la presenza del criopulcanismo è evidente questa è una foto della Cassini del 2005 che dimostra i getti dei geyser dal polo sud del satellite ok che sparano direttamente vapore e apri nello spazio quindi vuol dire che al di sotto della crosta c'è un oceano di acqua liquida com'è possibile che a queste grandi distanze dal sole ci sia l'acqua liquida perché probabilmente è nato un meccanismo di riscaldamento mareale che tiene fuso all'interno del satellite e l'acqua liquida riscaldata può uscire dalle spaccature che si possono aprire nella crosta gianciata dai satellite stesso e in questo modo potete avere un oceano al di sotto della superficie di Encelado in grado di sostenere forme di vita così come potenzialmente in grado di sostenere forme di vita l'oceano sotto la superficie di Europa quindi vedete che nel nostro sistema solare sono già due gli oceani oltre a quelli terrestri sicuramente presenti bene questo è tutto molto bello abbiamo visto da dove arriva l'acqua della Terra abbiamo visto le proprietà fisiche e chimiche dell'acqua che sono dovute proprio alla struttura elettrica della sua molecola e però avere l'acqua a disposizione non basta per avere la vita ok? sappiamo che è uno degli elementi essenziali però la vita è fatta tutta una serie di ingredienti quindi adesso cerchiamo di capire quali sono questi ingredienti e come possono essere amalgamati per ottenere la vita allora prendete una persona di 70 kg ok? e cominciate a diciamo a scomporla negli elementi costituenti allora una persona di 70 kg possiede 7 miliardi di miliardi di miliardi di atomi che poi vanno a costituire le molecole che poi formano le cellule che poi formano il corpo quindi qui stiamo guardando la cosa a livello atomico a corpo quindi di elementi che costituiscono una persona allora di questi 7 miliardi di miliardi di miliardi di atomi il 62% sono atomi di idrogeno ok? quindi questo è il primo ingrediente per la vita l'idrogeno indispensabile 24% sono atomi di ossigeno 12% sono atomi di carbonio l'indispensabile carbonio in grado di dare vita a molecole molto lunghe ad impolineri che sono essenziali per avere delle forme di vita evolute poi avete un 1% di azoto e un 0,2 di fosforo e poi tracce di calcio potassio zolfo eccetera quindi questi sono gli atomi indispensabili per è la ricetta per avere una forma di vita diciamo a livello umano ma le stesse proporzioni vengono rispettate anche dagli animali da qualsiasi altra forma di vita presente qui sulla nostra terra questi atomi sono il risultato dell'evoluzione stellare originariamente subito dopo il big bang 13 miliardi 700 milioni di anni fa l'universo era fatto di idrogeno ed elio quindi l'idrogeno un protone attorno all'orbito dell'elettrone e poi l'elio quindi due protoni e due neutroni attorno a cui l'orbitano due elettroni questi sono i gas nativi primordiali e tutto il resto quindi il carbonio l'ossigeno eccetera sono nati solamente grazie alla sintesi all'interno dei nuclei stellari quindi per successive fusioni terronucleari ok ad esempio fondendo quattro atomi di idrogeno le stelle producono l'edio e producono l'energia che poi radiano nello spazio come sta facendo il sole in questo momento ma potete andare oltre potete fondere tre atomi di edio per formare un atomo di carbonio e poi due atomi di carbonio per formare il magnesio e così via fino a costruire gli atomi pesanti almeno fino al ferro e in effetti questa diciamo è la struttura di una stella massiccia che è pronta ad esplodere come supernova vedete che ha un pochino la struttura di una cipolla all'esterno avete l'edio l'idrogeno poi l'edio il carbonio l'ossigeno il silicio e il ferro ok il ferro è l'ultimo gradino della nucleosintesi stellare gli altri elementi quelli di pesanti del ferro verranno prodotti durante la fase esplosiva della supernova perché la stella esplode cessa la produzione di energia nel nucleo nel ferro potete ottenere energia contendolo insieme e quindi la stella perde il suo equilibrio idrostatico quindi la forza di gravità prende il sopravvento la stella collassa e avrete una esplosione degli strati più superficiali a causa del retentino aumento di temperatura che implica il collasso gravitazionale e quindi in poche ore avete l'esplosione della stella la sua distruzione almeno negli strati esterni e diciamo gli elementi presenti in questa fase vengono diffusi nello spazio ok gli strati esterni vengono scagliati a velocità di 10.000 km al secondo e quindi diciamo gli atomi cucinati prodotti all'interno delle farmaci stellari vanno ad inquinare lo spazio dell'estellare vanno a contaminare il gruppo di gas e polveri da cui si formerà la nuova successiva generazione di stelle ed è in questo modo grazie all'evoluzione stellare che diciamo nell'universo sono comparsi gli atomi che sono stati come dire utilizzati poi per formare esseri viventi ok quindi diciamo la fase siamo ricordate la famosa canzone che diceva siamo vivi delle stelle ecco è proprio letteralmente così perché se non ci fosse stata l'evoluzione stellare i nostri atomi che compongono i nostri corpi non ci sarebbero e di conseguenza non ci sarebbero noi con il solo idrogeno e l'elio non potete costruire un essere vivente d'accordo? l'idrogeno da solo l'elio è un gas mobile quindi non si lega niente quindi siete assolutamente per cui alla prima molecola di H2 una delle supernove più vicine esplose in tempi non geologici è il 1987A che esplosa nella grande lunga di Magellano a 170.000 in più c'è da noi e se voi diciamo fate un diagramma in cui vi portate l'abbondanza degli elementi chimici che si trovano nell'universo vedete che quelli utilizzati dalla vita sono l'idrogeno carbonio azono ossigeno cioè sono quelli numericamente più abbondanti sostanzialmente d'accordo? poi gli altri diciamo sono sempre meno abbondanti mano a mano che salite di numero atomico ma gli atomi gli elementi fondamentali per la vita sono quelli più abbondanti nel nostro universo ecco sono quelli più abbondanti nell'universo ma non sono quelli più abbondanti sulla terra fate questa comparazione fra gli elementi in massa che costituiscono un corpo umano e gli elementi in massa che costituiscono la crosta terrestre gli oceani e l'atmosfera vedete che c'è una bella differenza noi siamo anch'enti se volete rispetto alla terra perché? perché noi abbiamo un 65% di ossigeno la terra è al 49% vabbè insomma siamo lì la terra 26% di silicio e il silicio non ce l'abbiamo assolutamente da nessuna parte noi viaggiamo al 18% di carbonio invece il carbonio sulla terra è un'eventura rarissimo da dove è arrivato il carbonio che è dentro ai nostri corpi e poi dopo possiamo andare avanti così l'idrogeno qui stiamo al 10% qui l'idrogeno c'era qualche parte eccolo qui 0% pochissimo e così via vedete l'azoto 3% qui l'azoto non c'è nemmeno negli altri ok quindi vedete che la composizione chimica dei nostri corpi è completamente diversa dalla composizione chimica del nostro pianeta e invece è concorda con la composizione chimica dell'universo quella dei nostri corpi quindi se volete noi siamo proprio i figli dell'universo in senso letterario perché abbiamo la stessa composizione chimica ecco una volta che avete gli ingredienti arrivare alle cellule il passo non è un po' di più d'accordo? e in effetti una cellula è un sistema complesso avete un nucleo con il materiale genetico avete tutta una serie di organi musiliare alla vita delle cellule e così via e le cellule poi ognuno ha la propria specializzazione le cellule del nostro corpo sono diverse secondo del tessuto secondo della funzione e all'interno della cellula avete 46 cromosomi che sono formati dalla famosa doppia elina del DNA che è una macromolecola che se l'aveva sonato l'assimo sarebbe lungo un paio di metri e questo si trova nelle cellule ogni cellula del nostro corpo ha un nucleo con 46 cromosomi e questi 46 cromosomi sono fatti di 2 metri di DNA d'accordo? quindi è estremamente diciamo compatto ma diciamo questa è il DNA che è diciamo la molecola base per la replicazione per la creazione degli esseri viventi e lì è contenuta l'informazione genetica che vi permette di creare il vostro essere vivente ok? e più diciamo l'essere vivente è complicato e maggiore è il numero di molecole che forma la macromolecola del DNA pensate che nel nostro DNA sono circa 6 miliardi di traversine ogni traversina in realtà è una molecola organica quindi fatta di atomi di carbonio ossigeno eccetera eccetera non stiamo lì a entrare nei dettagli ma diciamo noi abbiamo sei miliardi di traversine per avere l'informazione genetica per creare un essere umano ok? e il DNA è alla base della vita della cellula ovviamente e grazie al DNA che all'interno della cellula vengono sintetizzate le proteine che sono necessarie per costruire il corpo vero e proprio il corpo vivente e le proteine sono fatte di amminoacidi qui ho un esempio di un generico amminoacido fatto dal gruppo amminico con l'azoto e dal gruppo carbossilico con il carbonio costruito e più un gruppo che si chiama gruppo laterale può essere più o meno complesso secondo il tipo di amminoacido ecco gli amminoacidi che si trovano nei nostri corpi sono una ventina e ovviamente ci sono molti di amminoacidi teoricamente possibili ma diciamo quelli utilizzati dalla vita sono una ventina ecco il passare quindi dagli atomi ingredienti della vita quindi dagli atomi di idrogeno carbonio ossigeno eccetera fino alla prima diciamo cellula vivente non sappiamo com'è avvenuto non sappiamo com'è avvenuto questo passaggio anche se dopo vedremo alcune indicazioni però sappiamo che ci è voluto circa un miliardo di anni ok per passare dalle molecole organiche presenti negli ocelli della terra primordiale fino ad ottenere un'alimentare forma di vita la diciamo la cellula senza nucleo il primo batterio e poi ci sono voluti altri 2 miliardi di anni per passare dalle cellule senza nucleo alle cellule con un dubbio quindi 3 miliardi di anni e siamo ancora a livello cellulare dopodiché c'è stata la famosa esplosione del Cambriano 500 milioni di anni fa ok quindi diciamo dalle prove geologiche e biologiche che abbiamo la vita è impiegata 3 miliardi di anni per svilupparsi per creare le prime cellule con nucleo dopodiché imparato il modello l'evoluzione successiva è stata molto più rapida ok quindi tutte le forme di vita che conosciamo dinosauri trilobiti eccetera eccetera hanno un'età inferiore alle 500 milioni di anni quindi la trilobite che tengo l'umano qui proviene proprio dal Cambriano d'accordo? quindi è stata tra le prime forme di vita complesse ad abitare gli oceani terrestri ecco ripeto noi non sappiamo come si è passato dalle molecole organiche complesse ok che formavano il prodotto primordiale alla al primo batterio non lo sappiamo non lo sappiamo non lo sappiamo si brancola nel mio più totale però nel 1952 diciamo fu fatto il primo esperimento per diciamo avere indicazioni in proposito cioè nel 1952 Miller simula quello che all'epoca si pensava dovesse essere l'atmosfera della Terra quindi un'atmosfera primordiale fatta di idrogeno acqua metano ammoniaca allora questa composizione ricorda un pochino la composizione chimica dell'atmosfera dei giganti gassosi Giove Saturno che essendo grossi pianeti hanno mantenuto i gas della nebulosa protoclanetaria primordiale e quindi si pensava nel 1952 beh probabilmente allora anche la Terra aveva mantenuto questi gas e quindi è ragionevole supporre che diciamo l'atmosfera primitiva della Terra fosse un misto di idrogeno metano e e nel suo apparato sperimentale per cercare di capire come erano andate un po' le cose Miller utilizza delle scariche elettriche allora l'idea della composizione dell'atmosfera della Terra è dovuta a un famosissimo biochimico russo Eomarin che nel 1924 diciamo ha la prima intuizione su come possa essersi evoluta e come possa essere nata la vita sulla Terra lui pensava agli oceani primordiali con un brodo di molecole organiche eccetera eccetera che lasciando passare un tempo molto lungo si erano combinate in modo da formare le prime cellule evidenti ecco in realtà in assenza di energia esterna un meccanismo come questo non può funzionare ok però comunque nel 1952 si era capito quindi Miller giustamente diciamo simula i fulmini atmosferi cioè la presenza della radiazione mobile al Sole con una serie di scariche elettriche nel suo apparato che funziona così qui avete l'oceano primordiale fatto di acqua pura acqua distillata in ebollizione evapora evapora l'acqua finire nell'atmosfera l'atmosfera primordiale che abbiamo visto prima poi scariche elettriche per mescolare gli atomi avete un condensatore e qui una drappola dove raccogliete l'acqua e i prodotti delle reazioni chimiche che avvengono qui a livello atmosferico ok è un esperimento diciamo molto semplice e alla fine della della sua esperienza che dura una settimana Miller trova una cosa sorprendente e cioè trova la presenza di molecole organiche fra cui 25 aminoacidi ok 25 aminoacidi e che sappiamo gli aminoacidi sono la base per la formazione delle proteine quindi sono un elemento essenziale per lo sviluppo della vita e l'esperienza di Miller è importante perché è stato proprio l'inizio delle ricerche sperimentali sull'origine della vita prima di Miller se ne parlava così ma a livello di opinione nessuno aveva mai provato effettivamente a simulare quello che dovevano essere le condizioni ambientali della terra primitiva Miller è stato il primo e dopo di un ovviamente sono stati fatti tutta una serie di esperimenti e cambiando composizione chimica condizioni tipo di sorgente ionizzante eccetera eccetera in diversi di questi esperimenti sono comunque diciamo stati confermati i risultati di Miller non si è andato più in là di così perché si sono ottenute molecole organiche si sono ottenuti gli amminoacidi ma diciamo l'esperimento non è andato avanti per milioni di anni per vedere se continuando a rimescolare il provato primordiale prima o poi riesce la cellula vivente d'accordo? quindi diciamo è stato capito in parte il primo tezzo cioè il passaggio dalla terra primitiva alle molecole organiche agli amminoacidi che vogliono essere presenti negli oceani primordiali però manca il grande passo tra le molecole organiche agli amminoacidi e la prima cellula vivente o carriota ok? anche perché diciamo non c'è solo l'atmosfera che può fornire gli altri ingredienti della vita ma ci sono ad esempio anche i meteoriti quindi gli asteroidi ad esempio nel 1969 il 8 settembre in Australia come ci sono cadono una bossa di meteorite del tipo di carbonacea che diciamo al suo interno conteneva il 12% di acque e oltre 90 amminoacidi ok? è interessante osservare che questi amminoacidi erano di due tipi adesso non stiamo rientrando del talma di tipo D e di tipo L che sono speculari mentre diciamo la vita quella che conosciamo noi utilizza un solo tipo di amminoacidi lente ok? ma quindi vuol dire che ingredienti c'erano ma non sono ingredienti di origine biologica d'accordo? ma sono elementi che si sono formati durante la fase di condensazione della nuve protoplanetaria però comunque diciamo gli asteroidi oltre a portare l'acqua sulla terra possono avere portato le sostanze organiche carbone eccetera utili per avere il brodo pre-colominale però diciamo dal 1952 l'esperimento di Miller sono cambiate un pochino di cose ad esempio è cambiata quella che si ritiene la composizione dell'atmosfera primitiva della Terra mentre ai tempi di Miller vi ho detto si riteneva che l'atmosfera della nostra Terra fosse tipo quella di Giove Saturno attualmente si tende invece a pensare che l'atmosfera della Terra fosse un'atmosfera diciamo diversa fatta di l'ibride carbonico oreato e azoto cioè i tipici gas che provengono dalle eruzioni vulcaniche e anche diciamo ragionevole molto più ragionevole che assumere un'atmosfera di tipo Giove Saturno anche perché la Terra si è formata abbastanza vicino al Sole quindi elementi volatrici molto leggeri non dovevano essere molto frequenti come vi ho detto prima quindi se voi cambiate la composizione dell'atmosfera la sintesi di molecole organiche ne avete lo stesso ma sono molte di meno perché non avete una grossa quantità di idrogeno vi manca completamente manca l'idrogeno manca il metallo manca l'ammoniaca quindi ottenete un po' di molecole organiche ma se poi li dedituite all'interno degli oceani terrestri e aspettate che esca qualcosa da quell'oceano avete tempo di aspettare perché quelle molecole organiche non si incontreranno mai per compiere le loro reazioni chimiche e per aggregarsi e formare le prime cellule d'accordo? quindi se cambiate l'atmosfera cambiate anche il risultato finale cioè sentite molto più improbabile la nascita della vita sulla terra e questo diciamo ha rappresentato un pochino un problema però diciamo una possibile soluzione potrebbe essere questa considerate di nuovo il grande bombardamento tardino che 3,8 miliardi anni fa diede il luogo diciamo alla versione finale degli oceani terrestri allora qui avete diciamo asteroidi che portano sia acqua sia materiale organico e diciamo le ricerche degli ultimi anni sono focalizzate a ricostruire quello che poteva succedere durante la fase di impatto con un'atmosfera di CO2 H2O N2 quindi con un'atmosfera di tipo vulcanico quindi si è andati oltre Miller e invece lui diciamo aveva sperimentato solamente sull'atmosfera non aveva tenuto in considerazione gli effetti degli impatti degli asteroidi ok? mentre invece diciamo nella nell'esperienza negli ultimi anni questo è stato fatto e in particolare il National Institute for Maternal Science in Giappone è stata simulata la caduta di asteroidi negli oceani terrestri quindi sparando pietra di composizione e con fortuna in in acqua con velocità di un paio di chilometri al secondo ok? e diciamo grossomodo se due chilometri al secondo diciamo sono le possibilità di sparo dei cannoni che hanno usato in realtà le velocità di impatto sono molto più elevati sono nell'ordine di una ventina di chilometri al secondo quindi è una simulazione diciamo più realistica possibile ma è il limite proprio perché avviene a bassa velocità mentre invece la velocità medica con cui gli asteroidi volentano con la terra è di un ordine di grandezza superiore però comunque cosa succede? che durante l'impatto avete una rialza enorme della temperatura potete arrivare più a 5.000 gradi a 5.000 gradi qualsiasi molecola organica posseduta dall'asteroide viene completamente disintegrata d'accordo? quindi quello che l'asteroide porta va benissimo ma poi viene disintegrato durante la fase di impatto l'asteroide va completamente distrutto ok? quindi l'asteroide non può essere una grande sorgente di molecole organiche perché è vero che le molecole organiche ci sono ma devono superare fasi di temperatura estremamente elevate quindi probabilmente vengono tutte disintegrate quindi quello che resta è che l'asteroide ad esempio è una sorgente di carbonio oltre che di acqua stessa ok? dopodiché si è scoperto che nuove molecole organiche si possono formare durante la fase di raffreddamento quindi la fase post-impatto quando il materiale si raffredda ok? allora lì potete avere diciamo tutta una serie di reazioni chimiche in particolare potete avere la dissociazione dell'acqua ok? l'H2O che diciamo viene scissa separata l'ossigeno può combinarsi con il ferro contenuto all'interno degli asteroidi ok? in particolare le meteorite del tipo condito ordinaria sono lì di ferro e tolto di mezzo l'ossigeno resta l'idrogeno che è disponibile per quella serie di reazioni chimiche che aveva diciamo provato a sintetizzare Miller nel suo diventare esperimento quindi localmente nella fase di raffreddamento si viene a creare un'atmosfera che non è troppo dissimile a quella di Miller ma solo localmente ok? quindi impatto dopo impatto su tutta la superficie della Terra potete avere la creazione di molecole organiche che diciamo in questo modo bypassano il problema dell'atmosfera dell'atmosfera di tipo vulcano e in effetti analizzando le molecole organiche dopo l'esperimento si sono trovate amminoacidi biomolecole e così via quindi diciamo per altra via migliorando la simulazione di quelle che dovevano essere le condizioni ambientali della Terra primitiva si è arrivati a risultati simili a quelli ottenuti da Miller con un'atmosfera tutto sommato poco realistica d'accordo? per quanto ne conosciamo ancora quindi vedete che gli asteroidi sono stati importanti non solo per avere portato l'acqua sulla Terra ma anche per avere portato diciamo gli elementi indispensabili per la formazione delle molecole inorganiche delle biomolecole ok? quindi amminoacidi e qualunque altro anche se non conosciamo quali sono stati gli step successivi cioè dagli amminoacidi passare alla prima cellula funzionante quello resta territorio oscuro d'accordo? perché non sono rimaste tracce non ci sono fossili non è rimasto niente di questo quindi che vediamo qui con questa conclusione quindi in parte dell'asteroide hanno portato acqua hanno favorito la formazione del DNA degli oceani primordiali ma ovviamente diciamo questo è solo un miglioramento dell'esperimento di Miller nel 1952 quindi tantissima strada resta ancora da percorrere d'accordo? però insomma è la scienza sperimentale come dire ci ha permesso di fare notevoli progressi rispetto alla situazione dell'inizio 1900 oggi abbiamo capito diverse cose tantissime cose ma tantissime altre restano ancora da capire quindi diciamo come normale nella scienza appena avete capito qualcosa vi accorgete che dietro a quello che avete capito in realtà c'è proprio la montana sconosciuta che dovete ancora scalare grazie per l'attenzione applausi ok mi vedo conto di avervi diciamo inchiodati con tutti i modi geologici quasi ma se avete qualche domanda non ci sono problemi tenete conto che inizio di cosa invece di iniziare. Poi ho trovato questa direzione sull'esplosione del Cambriano. Sull'esplosione del Cambriano, i motivi. Beh, diciamo, una volta che negli oceani terrestri erano nate le prime cellule col nucleo, diciamo, il passo successivo per creare l'essere di queste complesso e l'aggregazione delle cellule. E quindi, diciamo, la loro associazione, la loro collaborazione per formare i tessuti e quant'altro. E quindi, evidentemente, questo passo deve essere stato praticamente banale rispetto a tutto il processo precedente di, diciamo, formazione della cellula vivente a partire dalle molecole organiche. E quindi, diciamo, una volta che la vita è nata, poi dopo ha cominciato in modo, diciamo, esplosivo proprio a percorrere tutte le possibilità. Quindi è stata una specie di reazione a terra, probabilmente. è stata una domanda di un po' di progettazione. Gli oceani di Cerado e di Europa sono fatti con la stichiometria di, diciamo, deuterio-idrogeno come, sono a nome delle comete oppure sono come, diciamo, come anche un passo deuterio-idrogeno. Da quanto, da quanto anni sono, non hanno misurato il rapporto deuterio-idrogeno? Quindi, quella è ancora, è ancora un campo di dati che sarà anzi, è una domanda molto interessante perché, quando avete visto, abbiamo visto il pentagramma sul rapporto deuterio-idrogeno, è una cosa molto strana perché alcune comete sono concordi con gli oceani terrestri, altre invece sono tutte diverse. e quindi vuol dire che nel Sistema Solare ci sono due tipi di acqua. Ma perché ci sono due tipi di acqua nel Sistema Solare? Da dove arriva l'una e l'altra? Quindi è un... Sì, ma perché deve essere diverso? Perché nei comete sono tutte nate alla periferia del Sistema Solare, quindi uno sospetterebbe, ma perché devono avere una composizione, una forma. Invece questo è un risultato abbastanza curioso, quindi che necessita ancora di indagini. Non è ancora chiaro perché ci sia questa dicotomia fra le comete, che uno sospetta un genere, una composizione, che sono nate alla periferia del Sistema Solare, quindi no, mediamente. Invece no, perché c'è una bella differenza. Quindi, boh, vediamo. Ultima cosa, piccola considerazione. Visto che la montagna della conoscenza sconosciuta è grande e lei è stato bellissimo, ne fassi vedere quanto conosciamo, però è piccolo. Però quello che mi viene da pensare, come sempre, e anche lei magari ha pensato, cioè l'universo sembra quasi che abbia un motore primo evolutivo che porta la vita in qualsiasi posto dove c'è la possibilità di formare l'acqua e l'ercibine, l'isolvente, che possano creare... Per cui, praticamente, mi sembra quasi vedere che l'universo, che sono altri, un primo evoluto apposto, tende a formare la vita e l'evoluzione della vita è sempre più complessa, quindi non è arrivata alla coscienza che abbiamo noi, a questo livello, sulla Terra. Che, praticamente, ci porta a vedere la bellezza del creato, dell'amore, della poesia e tutto il resto. Noi vediamo che la bellezza dell'universo è quasi come se l'universo, il motore primo evolutivo, porta alla creazione della vita affinché ci sembra essere che lo possano ancora rivedere. No, in effetti, diciamo, noi siamo proprio un universo che cerca di studiare se stesso, perché abbiamo visto la composizione circa nostra uguale a quella dell'universo e noi stiamo cercando di capire da dove veniamo, come siamo arrivati qui, ma abbiamo il dipretto di istruzioni. E, però, il fatto che l'universo, diciamo, diciamo, sembra organizzato per formare esseri viventi, in effetti fa parte del cosiddetto principio antropico. Sì, ma sugli altri pianeti ancora non conosciamo praticamente niente, sappiamo solo che esistono, probabilmente dal punto di vista statistico che siano, diciamo, abitati o abitabili assolutamente certi, insomma, perché non guardo i pianeti, anche solo nella nostra galassia, i milioni e milioni di pianeti, quello sono veramente... ovviamente, cioè, non svegliamo le mie forme di vita presenti nella galassia, sarebbe veramente già una cosa, uno spreco di spazio. Comunque, a parte questo, ma probabilmente è perché, diciamo, l'universo è fatto così, diciamo, la domanda che viene spontanea giustamente, è perché se non fosse fatto così non potremmo vederlo. Cioè, se stessero universi in cui, casualmente, le leggi della fisica remano contro, non ci può arrivare l'autocoscienza, lì nessuno ci sarebbe per dire accidenti, non ci siamo. E ovviamente, diciamo, deve... cioè, è anche naturale che sia così perché se non fosse possibile non staremmo già a farci da un anno. E diciamo, è il principio antropico-informativo. Sì. Scusate, sì, deve chiudere, dobbiamo andare. Ringraziamo il dottor Arvino Carabiniani e ricordiamo che questa conferenza è bellissima, la potete rivedere perché l'abbiamo ripresa e la mettete sul nostro canale YouTube. Quindi basta che guardate su YouTube digitale Astrofili Polaris e potrete vedere questa in tutte le altre nostre conferenze. Se vi iscrivete al canale YouTube di Polaris potrete poi seguire tutte le conferenze. Ringraziamo pure il dottor Arvino Carabiniani e grazie a tutti. Arrivederci. Grazie mille. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie mille.